La situazione attuale chiaramente di crisi monetaria che ci sta coinvolgendo a 360 gradi è diventata insostenibile. Questo crea una volabilità delle imprese e insicurezza nelle persone con ripercussione sul mercato indiscutibilmente del lavoro. Noi nel 2011 proponemmo in considerazione dell'allungamento della vita media, dell'aumento delle persone anziane, considerate che nel 2045 gli ultra 65 anni saranno più del 30% e gli ottantenni saranno oltre il 12%. Considerate che attualmente le persone ultracentenarie in Italia sono 17.000. Immaginate con quale progressione c'è questo allungamento della vita. È una cosa importante, è un fattore molto importante perché manifesta il miglioramento della qualità della vita indiscutibilmente, le migliori condizioni. Però bisogna far fronte a questa cosiddetta ormai da più parti piramide rovesciata, dove in basso, in maniera molto ristretta, ci sono i giovani. La base rovesciata è fatta dalle persone anziane. Nel 2011, stavo dicendo prima, la Naste ha messo in campo un'ipotesi, un progetto del Fondo Unico per la Nonato Sufficienza, che consentiva di affrontare a costo zero per lo Stato questo problema in maniera indolore. Cosa che andava fatta dal mio punto di vista oltre 20 anni fa, come fece la Germania circa 25 anni fa e altri paesi. E oggi, pur avendo una struttura consolidata, hanno delle problematiche anche loro. Noi tutta questa situazione di protezione non ce l'abbiamo più. Il discorso che il welfare si debba occupare delle persone dalla culla alla tomba, credo che ormai cominci a fare un po' d'acqua, perché non ci sono più tutte quelle garanzie per le persone anziane. Senta, quante sono le strutture in regione naturalmente dedicate alla terza età? Associate qui in Emilia Romagna sono circa 80 strutture. Sono tante strutture. Come siamo messi rispetto al resto d'Italia? Beh, non me lo chiedo, siete messi meglio. Lo devo dire con estrema onestà. Non si dà mai nulla per scontato. Era per avere un attimo un'idea anche della nostra situazione rispetto a quella generale. Sì, in generale è una regione che funziona, anche se con qualche criticità, ma devo dire che funziona molto bene. Ci sono delle eccellenze indiscutibilmente. Il problema è il solito che tra il divario che c'è tra il sud e il nord. Il sud va con velocità inferiore e infatti il grande problema è quello della trasmigrazione dal sud al nord per cercare delle cure al nord perché ci sono situazioni di eccellenza diverse. Senta, le convenzioni, l'ANAS e le convenzioni. Qual è la situazione? Sì, l'ANAS e l'acronimo sta per Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età. Ci sono associate strutture socioassistenziali, che sono le case di riposo, e sociosanitarie accreditate. Sono le convenzionate che erogano un servizio su concessione dello Stato, per cui sono equiparabili a tutti gli effetti allo Stato, al pubblico. Questo è un concetto fondamentale perché altrimenti non si capisce bene perché ci siano delle strutture accreditate, private, ma che erogano servizi per lo Stato. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda le convenzioni. Ci sono una serie di elementi che caratterizzano ANAS, come ad esempio la programmazione degli interventi. Allora, certo, il nostro compito, innanzitutto siamo presenti in tutte le regioni con presidenti regionali e vicepresidenti regionali che hanno il compito di sorvegliare su quello che succede tra gli associati. Per poter essere associati innanzitutto occorre esibire una domanda al presidente regionale che va con tutte le autorizzazioni, gli accreditamenti, il numero dei posti letto, la divisione del numero dei posti letto. Il presidente va, controlla la struttura che funzioni così come viene descritta, dopodiché il presidente manda la sua relazione al comitato esecutivo che fa la prima approvazione che poi viene mandata al Consiglio nazionale che fa la delibera ufficiale per l'ingresso dell'associato in ANAS. Giusto per fare un quadro completo dell'associazione, le attività promozionali e le collaborazioni, quanto pesano nell'attività dell'associazione? Noi quello che facciamo è creare dei benefit per tutti gli associati, cioè protocolli d'intesa con assicurazioni, con banche, con altri servizi che vengono offerti di cui ne possono uscire gli associati. Questo è un aspetto fondamentale. Poi noi siamo firmatari del contratto nazionale di lavoro ANAS che è stato depositato al Ministero del Lavoro nel 1989 e siglato dalle tre federazioni CGL, CISL e UIL. Il personale che viene impiegato in queste associazioni nazionali per le strutture sulla terza età vengono naturalmente a una formazione, è una cosa fondamentale che voi seguite? Noi abbiamo anche un ente di formazione che si chiama Anaste Campus, è un accordo fatto con la Link Campus University che è a Roma, con la quale eroghiamo frontalmente o in via remota la formazione. Spesso mi trasformo in tutor nei confronti degli OS che fanno formazione nelle strutture socio-sanitari e socio-assistenziali degli associati ANAS. Ricordiamo che cosa sono gli OS? OS sono gli operatori socio-sanitari che è una spina dorsale e un valore aggiunto delle nostre strutture indiscutibilmente insieme agli infermieri. Oltre ovviamente ai infermieri, fisioterapisti, medici, inutori... Sì, c'è tutta la categoria, perché c'è l'obbligo nelle strutture di avere la fisioterapia, per cui tutti i fisioterapisti con un programma di un fisiatra vengono gli ospiti curati ogni giorno. Nell'incontro di questa mattina, che occuperà praticamente tutta la mattinata l'hotel Savoia Regency, quale sarà il messaggio principale che ANAS vorrà trasmettere? Oltre naturalmente a presentare se stessa e la struttura. Certamente, quello che abbiamo già detto all'inizio della trasmissione sul tema è l'importanza di programmare questo settore, perché ormai siamo ad un momento di drammaticità. Non ci sono più risorse, mancano i posti letto, le persone non hanno più soldi per poter affrontare queste spese. Allora bisogna che ci sia una programmazione seria, una collaborazione stretta, senza fronteggiamenti tra pubblico e privato, perché il privato offre indiscutibilmente, appunto su concessione del pubblico, dei servizi di eccellenza che vengono graditi dagli ospiti. E la qualità della vita degli ospiti viene recepita totalmente dagli ospiti delle strutture. Voi avete un dialogo aperto con il governo su questo tema, state aspettando delle risposte, avete presentato un piano particolare? Il piano che abbiamo presentato è il Fondo Unico per l'Aonautosufficienza, che ormai è un importantissimo come progetto. Abbiamo un rapporto aperto con il Ministro, tant'è vero che ci ha mandato, perché presumo che stia partorendo in questi giorni, ha mandato una lettera, avrebbe partecipato volentieri perché il tema è cruciale, una lettera ben gradita da parte sua con i migliori auguri nell'affrontare questo problema particolare. Sì, migliori auguri naturalmente si spera con un aiuto e un'attenzione costante, chiaramente da parte dello Stato. No, ma il Ministro ci segue, conosce il lavoro che facciamo e ci segue da vicino. Quindi questa è la situazione di Anaste. Anaste, se lei dovesse chiudere il convegno, l'incontro di questa mattina, su che cosa metterebbe l'attenzione? L'accento, ecco. L'accento è su quello che fa la Naste, non siamo un ente datoriale e basta. Noi per esempio quest'anno, tra l'anno scorso e quest'anno, abbiamo messo in campo un'attività di indagine epidemiologica sulla terapia del dolore, che credo che nessuno abbia fatto, proprio per rispettare la legge 38 del 2010. E devo dire che sono stato invitato in settembre a Bruxelles, considerate che la Naste è federata a livello europeo nella ECO, nella European Confederation of Care Home Organization, e abbiamo una sede a Bruxelles, e la Naste è orgogliosa di esprimerne il Presidente, che è il sottoscritto di questa organizzazione. E mi sono sentito orgoglioso di essere italiano, proprio perché in quella riunione, in quell'occasione, presenti i 28 Paesi con i maggiori responsabili della terapia del dolore, hanno osannato la nostra legge, perché siamo l'unico Paese in Europa ad avere la legge sulla terapia del dolore e le cure palliative. Ogni Paese ha detto che prenderà spunto dalla nostra legge per formulare la propria legge. E questo, devo dire, mi ha fatto veramente piacere, mi sono sentito orgoglioso di essere italiano. Noi porteremo questa indagine a livello europeo, a Lisbona pochi giorni fa il board della ECO ha approvato all'unanimità questa soluzione, e metteremo in rete il dolore, faremo un network sulla terapia del dolore con tutti i Paesi europei, consultabili in tutta Europa.